Here in Naples, 59, farne at around 15 Celsius, questo significa che non è quella giornata veramente, 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 veramente mite, come in questi giorni, in questo periodo, infatti ci sono, c'è qualche grande o in meno che non consente di dire che poi fa così tanto freddo, magari la percezione invece delle altre persone non è la stessa mia, ma io non sento così tanto freddo, poi è anche vero che io non lo soffro molto il freddo perché faccio una serie di pratiche da qualche anno, diciamo, in cui i punti principali consistono nel farsi le docce fredde e anche gelate, voglio dire, e poi cercare di stare quanto più possibile a torso nudo, comunque, senza quasi nessun indumento, insomma, meno indumenti si hanno, meglio è per quanto più ore possibile si riesce a stare. E questi, diciamo, sono due capisaldi del metodo WeMove, di questo, cioè questo odisse norvegese che detiene vari record, anche in apnea, un record in apnea, in blocco di ghiaccio, acqua ghiacciata per oltre due ore e mezza, non vorrei sbagliare, comunque, non mi ha approfondito più di tanto, dovrei farlo, visto che, visto che, diciamo, sono cose che faccio, dovrei approfondire questo, questo personaggio ancora di più, ma prima o poi lo farò, adesso non ho tempo. Consiglio questi due metodi perché, effettivamente, portano dei vantaggi psicofisici e, appunto, il freddo, il freddo lo si può soffrire di meno.